ma buongiorno ciao ragazzi intanto ben ritrovati come state spero bene insomma beh questo sole ragazzi questo caldo finalmente ci fa così entrare nell'idea dell'estate nell'idea del caldo forse è arrivato il caldo troppo velocemente perché i 35 gradi non siamo tutti abituati a sopportarli poi da noi è un po affoso però noi di dodo sport abbiamo la soluzione per rendere queste giornate un po più fresche meno sofferenti del caldo così possiamo dire beh voi vi direte come avete letto il titolo parliamo delle bermuda che strittano l'occhio anche al prezzo perché comunque siamo nel periodo di saldi per chi non ci conosce vi ricordo che ci troviamo a percotto in piazza della vittoria 7 a metà strada tra udine e palmanova quindi 10 minuti a sud di udine 10 minuti a nord di palmanova e ovviamente abbiamo locale climatizzato quindi lo shopping da dodo sport è comunque fresco divertente completo come dire offriamo il caffè magari un caffè freddo anche se è proprio caldo quindi non avete scusa per non venirci a trovare e cosa importante siamo aperti anche mattina e pomeriggio quindi dalle 9 alle 12 30 e dalle 15 30 alle 19 30 e potete chiamarci allo 0432 67 6217 e oppure cominciare anche una qualsiasi conversazione whatsapp cliccando sul tastino che trovate alla base dei post per chiederci informazioni qualsiasi cosa quindi oggi parleremo di bermuda un capo che non può mancare nell'armadio di qualsiasi uomo e ve ne farò vedere anche che c'è una quindicina di modelli perché da noi l'assortimento di bermuda è veramente importante di qualità e direi anche così divertente perché abbiamo dei tessuti lavorati beh cominciamo da un capo che a me piace molto che abbiamo riassortito perché questo colore è arrivato da tre giorni questo color grigio medio cosa parliamo parliamo di un bermuda intanto che arriva al ginocchio quindi non è un bermuda troppo lungo in tessuto sea sucker quindi un tessuto morbido leggero leggermente in rilievo disponibile in tre colori nella versione qui abbiamo quella collaccio e l'elastico in vita oltre che i passanti quindi abbiamo una grande facilità di vestibilità due tasche a filo tre colori disponibili questo grigio che è l'ultimo arrivato è disponibile dalla 46 alla 56 quindi comodo tessuto fresco disponibile in questo ghiaccio scusate grigio medio molto bello oppure nella versione faregname corda guardate che bello sempre il tessuto sempre collaccio per chi non ha masse il laccio lo possiamo sfilare diventa un classico bermuda elegante lo si può indossare con una bella camicia di lino lo possiamo indossare con una camicia bianca in popelin quindi lo è veramente facile quindi tre colori abbiamo detto grigio medio corda molto bello ve lo faccio sempre vedere dietro perché comunque il taglio a pantalone e non può mancare il blu nevi anche qui ragazzi sono dei capi che non hanno dei costi proibitivi perché costano 92 euro da scontare del 15 per cento perché comunque il caldo è partito da poco guardate che bell'assortimento di colore blu nevi corda grigio sono colori facili da indossare per chi ama essere un po più classico questi due colori sono magari il corda e il blu un po più facili per chi ama comunque invece un colore un po più brioso beh il grigio medio è un grigio secondo me molto facile da utilizzare proseguiamo poi con una bermuda sempre di perfection un modello a tessuto liscio leggermente più corto che è un best seller di questa stagione questo è un bermuda un po più elegantino se vogliamo quindi tessuto leggerissimo tela vela la chiamo proprio ragazzi leggero leggero 4 centimetri più corto dell'altro quindi un bermuda elegante che arriva sopra ovviamente il ginocchio importante per la vestibilità come tutti i pantaloni di perfection sono caratterizzati per avere l'elastico in vita quindi facilità di vestizione e di vestibilità e di qualità e lavorano su questo bel contrasto anche di tessuto e di colore ovviamente ai passanti per anche indossare la come si dice la cintura disponibile nella versione blu anche questo è un capo da 87 euro che scontato del 15 per cento va intorno ai 72 e 73 euro nella versione beige quindi sempre tessuto tela vela guardate che bello anche questo colore chiaro un colore magari da indossare con una bella polo bianca un apolo blu una camicia blu una camicia azzurra sono diciamo due bermuda che fanno così sostituiscono un pantalone con la tasca fila un po più elegante cosa importante sono colori molto facili e soprattutto da indossare quotidianamente ricordate poi che questa diciamo particolarità dell'elastico in vita aiuta tantissimo a calzare e vestire meglio tutte le fisicità sulla stessa diciamo falsa riga di queste bermuda posso proporvi quindi per sulla falsa riga intendo dire sempre con l'elastico in vita un tessuto base cotone leggermente lavorato quella era la tela vela diciamo semplice questo è un cotone leggero leggermente lavorato a quasi piqué disponibile in questo bel colore avio anche questo è un modello che arriva al ginocchio calza bene arriviamo fino alla taglia grande 56 58 disponibile in questo bel colore a carta da zucchero se vogliamo quindi un bluet non troppo acceso una tinta salmone guardate che bella questa molto diversa ad esempio qui da abbinare con una bella camicia in lino bianca in lino blu potrebbe essere anche per chi ama il colore anche un bel lilla se vogliamo qui ragazzi possiamo spaziare perché poi essendo estate tranquillamente sono capi da indossare facilmente e dare un po di colore quindi abbiamo la versione carta da zucchero la versione salmone il terzo colore di questo capo a dire vero neon 5 è il corda chiaro quindi base beige guardate la bellezza anche di questo capo ricordatevi sempre 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 l'elastico in vita quindi la facilità di utilizzo tela molto leggera anche qui il prezzo è un po più importante perché è una tela comoda leggera che non si stropiccia tanto viene 103 che scontata va intorno agli 85 euro quindi abbiamo ragazzi guardate che vastità di colore carta da zucchero salmone corda o beige così se vogliamo chiamare ancora ragazzi due colori voi direte ma quanti colori hai tubia questo bel verde oliva guardate la bellezza di questo di questo bermuda anche qui sbizzariamoci con i colori giallo sopra arancio diamo vita sempre liscio in questo tessuto morbido ultimo colore ragazzi il bianco quindi scusate il blu sono innamorato quindi ho lasciato questi due colori un po per ultimo per il discorso diciamo dell'abbinamento ma sono colori molto facili ragazzi vi presento vi sto presentando un bermuda in 5 colori diversi e qui ve li faccio vedere quindi abbiamo il corda il salmone carta da zucchero blu deciso e questo verde oliva ricordatevi che siamo molto molto briosi e soprattutto strizziamo l'occhio al prezzo proseguiamo poi con due bermuda in tessuto leggermente più tecnico però devo salutare un po di voi mi stavo dimenticando allora devo salutare matteo david davide eva giovanna giovanni e maria grazia ciao ragazzi siete in tanti oggi proseguiamo poi con un effetto così un po più tecnico se vogliamo quindi è un tessuto leggermente più consistente saluto anche sommaro domenico lavorata questo picchettone in un questa bella bermuda bianca sempre con l'elastico in vita una bermuda bianca facilissima sempre gamba asciutta un pelo più corta anche qui abbiamo ancora diverse taglie disponibili e questo modello ce l'ho nella versione bianca e nella versione carta da zucchero vedete come questi colori così un po diversi dal solito appunto per rendere così diverso anche i nostri outfit quindi carta da zucchero e bianco soprattutto bianco molto bello ricordiamoci sempre l'opportunità di avere la comunità della vestizione con l'elastico un po più comodo proseguiamo poi se vogliamo con una pila un po più sportivo quindi un bermuda con i tascoli laterali devo salutare anche francesco e mazut cominciamo a parlare di versione canvas di cotone quindi il tessuto sempre leggero ma così con l'effetto un po work quindi leggermente della ve qui ce l'abbiamo nel tessuto a ventre piatto scusate con la vita quindi non all'elastico ma rimane sempre comodo morbido gamba leggermente più larga quindi un effetto work un effetto un po più comodo in questo colore asfalto quindi un bermuda grigio scuro da abbinare facilmente con tutto guardate la bellezza di questo bermuda anche qui strizziamo l'occhio al prezzo perché da 92 euro andiamo intorno ai 75 euro più o meno quindi un bermuda molto facile disponibile in due colori nella versione allora senza tasconi un po più comodo un po più work fatto in questo modo colore asfalto oppure in due colori base grigia e base blu con tascone laterale sempre un tascone piatto quindi non ingombrante leggermente più lungo col soffietto in canvas di cotone con l'effetto così un po della ve quindi abbiamo la versione blu sempre un po più lavorata vedete come la tasca frontale è un po più piazzata abbiamo i passanti è leggermente anche più largo disponibile nei due colori quindi base blu e base asfalto ricordiamoci che questa base asfalto è un jolly che può permetterti di indossare qualcosa di blu sopra colorato anche di nero ragazzi certo che già una bermuda asfalto io andrei di colore però i due colori quindi grigio asfalto e blu nevi sono colori classici moderni allo stesso tempo in una vestibilità di bermuda un po più larga per quindi avere questo gusto un po più over e con l'effetto un po vintage salutiamo ancora un po di amici allora saluto diego saluto francesca e saluto dome c'è scritto quindi saluto loro tre proseguiamo poi ragazzi con le ultime tre proposte un po più briose ancora allora briose perché abbiamo le diciamo le micro fantasie qui abbiamo una micro fantasia riga verticale sottilissima bianca blu collaccio sempre con l'idea del dell'elastico in vita quindi comodo per vestire un po tutti gamba abbastanza asciutta al ginocchio tessuto sea sucker quindi il tessuto vela leggero leggero cosa importante vestibilità quasi elegante un po diversa dal solito con questa riga verticale bianca blu molto molto facile ultime due proposte sempre lavorate e in fantasia con le bermuda con le micro righe cotone leggerissimo questo è una tela di cotone quasi impercettibile con l'idea del partendo dal pantalaccio si può indossare ovviamente anche la cintura perché qui abbiamo le come si dice i passanti per appunto sostenere la cintura e ve ne presento in questa micro riga beige bluetto un po diversa dal solito sempre tessuto leggero con l'effetto un po vintage oppure beige marrone quindi abbiamo le due versioni o nell'idea del bluetto o nell'idea delle tinte coda qui quindi tinta della terra tinte così con l'idea del blu bermuda molto facili da indossare con camicia di lino polo di lino polo smanicata sono smanicata smacchinata quindi l'idea del maglioncino leggero a polo con le classicissime polo o t-shirt volete un gusto minima magari un bel girocollo blu marrone bianco ragazzi verde foresta oppure le t-shirt con le stampe perché abbiamo bellissime t-shirt stampate anche queste sono tessute e diciamo sono delle bermuda fresche la particolarità che hanno la tasca una tasca sola con patella nella parte posteriore per renderle un po diverso dal solito e strizzano l'occhio al prezzo perché da 94 euro con lo sconto del 15 per cento andiamo intorno agli 80 75 euro ecco qua ragazzi cosa dite vi sono piaciute avete visto che assortimento di bermuda abbiamo saluto anche robert e alessandro che si sono appena collegati vi ricordo allora ragazzi che noi siamo aperti mattina e pomeriggio anche domani dalle 9 alle 12 e 30 dalle 15 e 30 alle 19 e 30 con un bellissimo assortimento di bermuda che per questo caldo non possono mancare all'interno del punto dell'armadio scusate di ognuno di noi vi ricordo che ci troviamo a percotto in provincia di udine in piazza della vittoria 7 metà strada tra udine e palmanova quindi 10 minuti a sud di udine 10 minuti a nord di palmanova qualsiasi messaggio voi volete scrivermi potete commentare questo video potete mandarmi un messaggio in direct potete mandarmi un messaggio su whatsapp cliccando sul pulsantino che trovate in fondo al post e siamo ovviamente disponibili a rispondere a qualsiasi domanda ragazzi vi ricordo o meglio vi aspetto in storia per cotto e ricordatevi anche che abbiamo una bellissima promozione sulle scarpe un paio 30 per cento due paia 50 per cento l'una quindi comprate un paio e pagate un paio ne avrete due fondamentalmente quindi ragazzi vi aspetto saluto gli ultimi due amici che sono ramà spero di aver pronunciato bene e ibrahim ragazzi grazie ci vediamo domani per un'altra diretta ciao ciao